20% di blasti può definire una diagnosi di leucemia acuta? Dottoressa Iurlo. Direi che bisogna controllare bene perché si può entrare a tutti gli effetti in una forma di leucemia acuta. Però bisogna vedere il paziente, bisogna vedere tutta una serie di cose che si possono poi eventualmente, di procedure terapeutiche, si possono implementare. Dottoressa, bisogna stare anche molto attenti perché spesso nella melofibrosi ci sono molti progenitori, quindi distinguere il progenitore nei limiti dal blasto, poi ci sono alcuni che stanno con questa condizione di fase accelerata un po', tra il 10 e il 20. Posso un attimo aggiungere, si parla di blasti-blasti, ovviamente non di cellule immature, come diceva prima il professor Passamonti, che è una cosa diversa, perché nelle melofibrosi noi li troviamo. In percentuali a volte neanche piccolissime queste forme che però non è che vogliono dire leucemia acuta. Se sono il 20% di blasti il discorso cambia. Grazie. Grazie.